C'è un'insegna nuova di Zecca che campeggia sull'ex plesso spedaliero del Viale Europa. Adesso quell'insegna indica che l'accorpamento centro-neurolesi Presidio Piemonte è stato concretizzato in realtà dal 1 ottobre ma verrà presentato lunedì 17 ottobre con l'iniziativa in linguaggio da social network hashtag lo stiamo facendo. A pronunciare lo stiamo facendo sono tutti i vertici dell'IRX neurolesi, il direttore scientifico Dino Bramanti, il direttore generale Angela Olicuo e il direttore sanitario Dino Alagna con un dietro le quinte di non poco conto dei vertici dell'azienda Papardo che hanno permesso il passaggio degli 84 posti letto nella struttura unificata e del personale sanitario proporzionato. Dall'inizio di questo mese la gestione della nuova eccellenza è transitata al comando dell'istituto Bonino Puleio che vuole spiegare fortemente alla collettività le nuove attività scaturite dalla fusione con il nosocomio Piemonte secondo quanto dettato dal decreto regionale 551 2016 attuativo della legge regionale 24 2015. La mission del nuovo centro sanitario è sempre quella riabilitativa che vedrà l'ampliamento in corso d'opera in un futuro anche in padiglioni del Piemonte mai utilizzati come il padiglione 6 e per i quali molti fondi erano stati spesi dalla protezione civile regionale. Ricordiamo che l'area d'emergenza urgenza esiste e si abbarrà di 31 posti per acuti caratteristica su cui parte della deputazione regionale si è battuta e su cui il comitato salvare l'ospedale Piemonte è rimasto sospettoso. A partecipare all'evento saranno il sottosegretario al ministero delle infrastrutture Simona Vicari, il sottosegretario al ministero dell'istruzione dell'università e ricerca Davide Faraone, il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, l'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi e il sindaco di Messina Renato Accorinti. Immancabili gli inviti ai parlamentari nazionali e regionali della provincia di Messina e alle altre massime autorità cittadine. Nella stessa giornata sarà anche inaugurato il CAREN, un sistema di realtà virtuale immersiva unico in Italia e secondo in Europa che va ad integrarsi con altri dispositivi robotici riabilitativi ed operati all'IRCS Centro Neurolesi.